Buongiorno a tutti, sono il professor Colarizzi, cercherò di spiegarvi in un tempo molto breve in cosa consiste questa novità che da quest'anno noi abbiamo proposto sia al liceo classico che al liceo delle scienze umane, cioè sto parlando della sezione del liceo teatrale. Questa sezione del liceo teatrale nasce da ciò che noi abbiamo osservato negli anni, cioè dalla passione che i nostri ragazzi mettevano e continuano a mettere nel famoso laboratorio di teatro che ogni anno li ha visti protagonisti con uno spettacolo nel mese di giugno. Prendendo spunto da questa passione e da questo successo abbiamo deciso di strutturare in maniera più organica questo laboratorio teatrale e farne effettivamente una sezione teatrale in cui l'ora di teatro fosse curriculare. Ne è nato quindi un progetto in cui sia al liceo classico sia al liceo delle scienze umane sarà proposta una sezione in cui invece delle canoniche 27 ore di bienia dei licei i ragazzi faranno 29 ore, quindi due ore in più. Queste due ore in più saranno occupate da un esperto di teatro e da un insegnante curriculare che accompagneranno i ragazzi in un percorso proprio di teatro che prevede nei primi due anni dizione, declamazione, impostazione della voce e una performance teatrale, ovviamente, alla fine del bienio. Stessa cosa nel terzo e quarto anno con un maggior approfondimento proprio di storia del teatro. Ci terrei a dire che questa sezione non è semplicemente, o meglio, non è non solo la sezione di chi vuole recitare, assolutamente, è la sezione di chi è appassionato di teatro e che vuole imparare dal teatro, vuole avere una sua formazione dal teatro e non deve necessariamente recitare. Questo vuol dire che si può fare studio del testo, scenografia e tutto ciò che comporta l'allestimento di uno spettacolo per cui chi si iscrive a questa sezione non è obbligato assolutamente a recitare ma semplicemente vuole approfondire il discorso teatrale, ama la storia del teatro e vuole diventare pubblico critico di fronte a uno spettacolo di teatro. Per far questo ci siamo appoggiati al Dipartimento di Teatro dell'Università di Urbino che settimanalmente scenderà alla nostra scuola per tenere l'ora di teatro, le due ore di teatro in questo percorso per chi vorrà scegliere questo percorso. Grazie a tutti, buongiorno.